Stiamo entrando in Pesione. In questo paese esattamente vio alla luce la marca Martini, che è conosciuta attualmente in tutto il mondo. Guarda Luis, ti porto al museo Martini e ti presento al responsabile della casa Martini Rossi, che si chiama Marco Budano. Marco, ciao! La marca Martini si è creata nel 1864 dai fondatori Alessandro Martini e Luigi Rossi. Osea, queste sono le prime botelle? Sì, qui si produce tutto il Martini che abbiamo nel mondo, 108 milioni di casas. De casas. De casas. 108 milioni di casas. De casas fisica per ogni anno. Per ogni anno. Partono da qui. Guarda Luis, qui siamo in la parte di arriva del museo e qui vivi uno dei fondatori hace 150 anni, che è il signor Rossi. Guarda al fondo, sta la foto Luigi Rossi. De Rossi, del fondatore di Martini. Exactamente, e di sua moglie. Osea, che vivi qui, in questa casa. Si, in questa casa. La moglie si chiamava Anna Barberis. E anche ci servis un Martini che... E volerai a Madrid, Fernando? Claro che volerai. Quando me jubilare, quando me jubilare, sicuro che volerai a Madrid. Molta suerte in tuo nuovo futuro laborale. Molta grazie. Molta grazie. Molta grazie. Adios, Fernando. Cuidate molto. Hasta sempre. Adios, 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 Grazie.